appassionati di veicoli abbandonati bentornati con lo stego guardate cosa vi offro oggi uno splendido moto coltivatore kubota cosa la pedana la pedana la pedana a pedana molto coltivatore di produzione giapponese guardate che splendido bellissimo giapponese kubota lei giapponese stupendo veramente modello k120 ora pittogrammi forse forse caratteri giapponesi forse incredibili sembra sembra una onda cb 750 for guardate il volano rispetto alla mano guardate questo carter con queste ultime immagini lo stego vi saluta